ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver partecipato in tanti al corso car audio sto scherzando sto scherzando il corso ancora non è iniziato voglio informarvi che le slide sono quasi tutte pronte quindi fra un paio di giorni vi dirò le date certe del corso vi farò vedere veramente di tutto di più vi insegnerò di tutto di più e metteremo anche in pratica sulla mia vettura tutto quello che andremo ad imparare nel corso quindi rimanete connessi e collegati abbiamo già creato un gruppo di lavoro per il post corso non chiedetemi di entrare in quel gruppo perché non accetto nessuno accetterò solo ed esclusivamente chi parteciperà al corso quindi ragazzi rimanete sintonizzati sia sulla pagina facebook sia sul canale youtube fra un paio di giorni vi dirò le date e come funzionerà il corso ciao ragazzi ci sentiamo e ci vediamo presto